Salve, sono Rita Fierimonte, ho 68 anni, sono alta 1,67 m, sono di origini ciociare ma ho sempre vissuto a Roma dove vivo tuttora. All'età di 40 anni ho iniziato a studiare recitazione e ho sempre fatto teatro nella mia vita con qualche incursione nel cinema e nella televisione. All'età di 5 anni ho studiato pianoforte, pianoforte classico, e poi ho studiato canto. All'età di 5 anni ho studiato pianoforte, pianoforte classico, e poi ho studiato canto.